Salve brava gente, questi qua ritrovati su Destron Empire e oggi faccio una recensione abbastanza atipica per il mio canale. Oggi quello che vi presento è Gian, G.I. Joe, Cobra Enemy, Baroness e Daun Moreno Snake Eyes, il secondo Snake Eyes. Stiamo parlando delle due statue di scala 1 a 7 della Kotobukiya che fanno parte della serie Bishoujo Shirizu. Pensate da Yamashita Shinya, Shinya Yamashita che è un famosissimo disegnatore di figure femminili che a me fa impazzire. Io non ho tante statue di Bishoujo, in giapponese vuol dire bella ragazza, ma inteso come ragazza adolescente, teenager, eccetera. Vedremo che queste di teenager hanno ben poco, però comunque questo si chiama Bishoujo Line, per cui ok, va bene così. E mi sono innamorato veramente di questa linea comprando la serie dei Transformer che è cominciata, poi ho preso Bishoujo Megatron che ho già recensito e questa linea mi ha preso. Perché ho tante statue della Kotobukiya in scala 7 a 1 di Star Wars, eccetera, a me sono sempre piaciute molto perché sono statue in PVC duro, fatte veramente con uno scalp da urlo e nonostante questo però non sono fragili come il polistone, non costano neanche così tanto, eccetera. Per cui per me hanno un prezzo abbordabile, hanno una rifinitura che è fantastica, questa è qua della Kotobukiya. E poi, ad Amante dei Transformer, tutti noi sappiamo che i Cobra e i Destructor, Amante più che i Transformer e i Destructor, avevano anche nel mondo dei fumetti americani, avevano anche fatto un'alleanza per cui ci può stare bene a mettere le Bishoujo figure di Transformer insieme a queste due. Benissimo, adesso poche chiacchiere, andiamo a vederci un po' le scatole. Innanzitutto, sono due versioni, entrambe limited, sia della Baronessa che di Daumoreno. Vediamo per primo la Baronessa perché adoro le donne con gli occhiali, mi hanno sempre fatto andare in testa. Quello che si dice in giapponese, meganecco feci, ovviamente le donne con gli occhiali mi è sempre andato a fare, mi viene in testa. Ovviamente è molto più bella, molto più sex appeal della Baronessa quella reale. E vediamo che qua hanno sgargiante vestito rosso con tanto del logo del cobra qua, qua, eccetera. Mentre la figura ufficiale è vestito completamente in pelle nero, che fa un sesso devastante, però purtroppo quella versione lì, adesso la si trova a 60.000 yen. Non ho nessuna voglia di spendere 60.000 yen, scusatemi per quanto può essere appetibile. E poi c'è un'altra presa dal fumetto, che poi vediamo, se segnate nell'altra scatola, blu. Tra quella blu e quella rossa, che costavano bene o male entrambe sui 12.000-13.000 yen, ho optato per questa rossa metallizzata che mi prendeva bene. Girando ancora la scatola, poi vediamo che abbiamo anche la possibilità di vedere dentro la nostra qua Baronessa, eccetera, e avere poi tutti qua sotto i dettagli che ci spiegano come è veramente dettagliata la figura su tutti i punti. Anche poi i capelli veramente fanno impazzire quanto sono fatti bene, eccetera. Vediamo le altre figure qua, eh. Le figure qua, gli studio qua non me ne frega veramente un cazzo. Ok, benissimo. Adesso passiamo a Down Moreno. Down Moreno, Down Moreno, Down Moreno, Down. Snake Eyes 2. Io non sono... non è che capisco molto dei G.A. Joe, sono sincero, eh. Per cui sapevo che Snake Eyes è quello normale, è un uomo. Il 2 sarà diventato una donna, non lo so, però effettivamente è veramente un personaggio che prende molto, vista così, ha veramente un appeal notevole. Con questa espressione è veramente tosta. Vediamo qua che nel lato della scatola ci fa vedere anche la Baronessa nella sua comic version con il vestito blu. Anche questa non era male, proprio è finito quello rosso. Vediamo che Down Moreno di solito ha la maschera, perché Snake Eyes di solito copre il viso con una maschera. E qua però è la versione che ti permette di avere anche il volto, quello scoperto, senza maschera. Io volevo questo volto qua senza maschera. Vediamo che c'è anche il volto con la maschera che comunque non gli metterò, lo dico già subito. Perché preferisco così? Perfetto, direi che ci siamo goduti abbastanza le scatole. Possiamo passare... Ah, in testa è trasparente comunque, è il top della scatola. Direi che possiamo passare ad aprire le scatole. First, Snake Eyes. Grazie. 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 Ciao. e ora vediamo Barone S Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Può essere cambiato e se voi mettete la versione col volto coperto ogni volta che cambiate il volto c'è da staccare le due catane sulla schiena che è segnato qua e da rimontare eccetera eccetera. Io lo dico già all'inizio, quello col volto coperto non ce lo metterò neanche, lo farò vedere così staccato e basta. Poi c'è da mettere anche la catana attaccata alla mano così eccetera ma è un attimino più complessa della baronessa ma si parla comunque di statue molto semplici da fare. Qua non è un sacchetto di plastica è solamente avvolta così dalla plastica e basta e vediamo qua la nostra Snake Eyes 2 è veramente delle statue devastanti per quanto riguarda dettagli. Perfetto direi che possiamo andarla tirare fuori dal blister e godercelo un po'. Ed ecco qua abbiamo davanti a noi la baronessa è da un moreno secondo, scusatemi Snake Eyes 2 da un moreno. Perfetto, sono due statue veramente bellissime, adesso diciamo che possiamo andare anche a vederci da vicino per prima cosa la nostra baronessa. è veramente da urlo, da urlo, l'unica cosa che c'è stato da sistemare e da mettere la sua ammitagliatrice qua, per il resto è una statua già completamente fatta, comunque ha dei colori spaventosi. Innanzitutto cominciamo dal volto e possono piacere come non piacere questi occhiali con le lenti gialle. La versione normale, quella nera, non ha le lenti gialle, io preferivo quella ma come già spiegato prima si parla di 60.000 yen, per cui ecco. Le lenti gialle sì non sono il massimo ma però comunque con questi colori ci stanno anche bene. Poi vediamo che ha questo rosso metallizzato che comunque fa paura, sembra il rosso delle Mazda, non so se avete presente. Ha proprio questo riflesso che a seconda di come prende il riflesso anche delle sfumature diverse, molto molto bello. Specialmente qua per quanto riguarda il petto eccetera, qua è molto metallizzato, proprio qua dove si vede anche il luogo dei cobra. Mamma mia si è fatto bene. E mentre sulle altre parti del corpo la metallizzatura è meno forte, cioè questo rosso sembra monotono, cioè è quasi tutto uguale, invece ha delle sfumature molto molto diverse. Scusatemi, probabilmente dal mio smartphone si prende poco tutte queste sfumature. Però è veramente notevole come è raffinata questa statua. Vediamo qua i capelli che sono un qualcosa di pazzesco. Specialmente delle statue giapponesi, ma dentro questa Bishoujo line ancora di più vediamo i capelli che sono fatti in una maniera spaventosa. Di lei che si mette le mani dietro con questi capelli ondulati al vento, cioè se una bella donna ti fa così davanti, cioè svieni, svieni. Poi vediamo che anche questi guanti lunghi neri con lo stemma del cobra qua giallo sono fantastici, fantastici. Poi abbiamo anche questi mega stivalazzi che arrivano alle cosce neri, mamma mia proprio da urlo, danno un accento molto molto bello, con queste linee argentate qua così. La base è a queste tracce di pneumatico di mezzo pesante, qua così. Abbiamo qua la cintura con lo stemma anche qua in argento. L'unica cosa che a me, più di tanto, devo essere sincero, non mi piace tantissimo, è questa mitraglietta che è da sul bianco. Mi sembra un colore molto finto. Mi avrei preferito qualcosa di argentato, con un argento molto chiaro, se vogliamo. Questo colore non mi piace tantissimo, sono sincero. Poi per il resto vediamo che è piena di texture, nel senso che qua se vediamo nella parte dietro, qua dalle parti qua dietro del vestito rosso, vediamo benissimo che qua non è liscia, ma ci sono delle texture che vanno anche a finire qua, dove ci sono la prima parte alta dal ginocchio dello stivale. Cioè sono molte sfumature, nonostante magari la colorazione sia la stessa. È veramente impressionante, impressionante ragazzi. Passiamo a Dao Moreno. Dao Moreno, Dao Moreno Dao. Vediamo che il suo simbolo di cobra è sulla tetta sinistra. Non so perché, comunque ci sta anche benissimo. Poi veramente, come il viso della baronesse sia stupendo, anche questo viso qua di Snake Eyes 2 è fantastico. Vediamo questo viso che proprio dà proprio l'idea di un personaggio con una fiducia notevole nei propri mezzi. Guardate che sguardo che ha. È veramente, non ha uno sguardo inquietante, però si tratta di un avversario che non ti vorresti mai trovare davanti. Veramente, proprio sicura di sé. Ottimo. C'è veramente questa linea da delle sensazioni veramente notevoli. La versione normale di Snake Eyes 2 sarebbe col vestito nero e con le linee tipo porpora, eccetera. Questo abbiamo il vestito completamente bianco che ricorda quello, se non sbaglio, di Snake Eyes 1 con tutte queste sfumature in rosso metallizzato qua che sono veramente notevoli. Veramente, veramente notevoli. Eh, sono davvero fantastiche. E poi abbiamo questi stivali in argento. Queste sono tipo armature medievale in argento, protettive in argento. Qua davvero molto molto belli. E poi qua, invece, di lato, anche qua ci sono i parabraccia ma di lato però vediamo le parti alte del braccio sono nude. Che anche questo però dà un certo sapore. E Snake Eyes, a differenza della baronessa, hai i capelli raccolti qua dietro che comunque anche qua si muovono al vento e sono davvero ottimi, ottimi, ottimi. Veramente i capelli sono fatti da Dio come in gran parte di queste statue giapponesi. e poi abbiamo sulla base lo stemma del cobra qua. Io ce l'avrei messo lo stemma del cobra anche sulla base della baronessa però, va bene. L'unica cosa è questa spada che andrebbe conficcata dentro la base che però tende a staccarsi e a venire via non è molto fissa, molto bene, va bene. E dovrebbe anche stare in piedi molto più verticale però vabbè, pazienza. Adesso direi che possiamo provare a girerle un po' E allora, siamo arrivati alla fine della mia recensione anzi, però per prima cosa devo dire che mi ero dimenticato di far vedere il viso l'altro viso che troviamo dentro la scatola per Snake Eyes 2 cioè quello con l'elmetto vedete che qua c'è un buco perché se cambiate questo viso le catanne vanno riattaccate qua dietro quelle che lei ha sulle spalle comunque anche questo è affascinante ma io la voglio veramente così col viso scoperto con i capelli al vento che mi prende molto molto di più torniamo a loro due veramente sono proprio contento di averle prese adoro Shina Yamashita per il per il suo design che è veramente la favola come riesce a rendere in stile anime questi personaggi tipicamente americani ha un tocco veramente veramente magico secondo me per come rendi i capelli il viso eccetera è qualcosa di fantastico davvero sono due statue ottime poi anche come costo performance considerando che tradotti in euro per quello che lo pagate si parla di circa 70-60 euro l'una e sono davvero notevoli veramente veramente notevoli si parla di qualcosa che ovviamente siamo sui come dimensioni orca non le ho misurate mi spiace poi magari lo dico in un altro video eccetera però viste così a occhio siamo sui 22 cm i 21 cm non sono scala 7 a 1 non sono enormi però comunque non sono neanche tanto piccole la loro porca figura veramente la fanno ottime veramente ottimi davvero dai ci vediamo ai miei prossimi video su Destron Empire ne farò anche altri di questa linea grazie per l'ascolto ciao alla prossima ciao ciao